Sabato 29 e domenica 30 agosto intorno alle ore 19 a Taranto Talsano in piazza Loiucco seconda festa dell'USB dal titolo molto significativo noi non dimentichiamo Francesco Rizzo segretario provinciale di Taranto dell'USB perché a correre numerosi innanzitutto per difendere i nostri diritti la nostra vita quella dei nostri figli difendere i nostri diritti la nostra vita difendere i nostri figli il titolo non dimenticare dice tutto cioè noi non dimentichiamo i nostri colleghi che per troppi anni e per troppo tempo sono stati dimenticati perché a Taranto è diventato normale morire di lavoro sia che muore all'interno della fabbrica di infortunio oppure se muori purtroppo della malattia del secolo del tumore noi non dimentichiamo Stefano non dimentichiamo Francesco non dimentichiamo Alessandro non dimentichiamo Ciro non dimentichiamo Claudio non dimentichiamo Nicola non dimentichiamo le loro famiglie cerchiamo di combattere con questa manifestazione anche il senso di indifferenza che si vive all'indomani di incidenti di questo tipo ecco la festa è proprio su questo per scuotere le coscienze e vorremmo la partecipazione di tutti di tanta persone perché poi alla fine è la massa che può cambiare le cose qua a Taranto